In questo corso parleremo di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine, concentrandoci sul caso, semplice ma importante, delle equazioni lineari. Iniziamo con un esempio tratto dalla fisica. Consideriamo un punto materiale di massa m libero di muoversi su una retta. La sua posizione al tempo t è assegnata dalla legge oraria y . Allora la sua velocità istantanea è data dalla derivata y' e la sua accelerazione istantanea dalla derivata seconda y' . La legge fondamentale della dinamica stabilisce che il prodotto massa per accelerazione è pari alla risultante f delle forze che agiscono sul punto e dunque m y' è uguale a f. Per esempio, nel caso di un punto materiale in caduta libera, in assenza di attrito dell'aria, la forza è uguale al peso mg e quindi, se y indica la quota del punto con l'asse orientato nel verso della caduta, si ha y' uguale a g. Nel caso di un punto soggetto ad una forza di richiamo elastica, come quella di una molla, se scegliamo il riferimento in modo che il punto materiale si trovi nell'origine quando la molla è a riposo, la legge di Hooke ci dice che la forza è opposta e proporzionale allo spostamento e dunque m y' è uguale a meno ky. Se ora supponiamo che l'attrito dell'aria o di un altro mezzo freni le oscillazioni, opponendo una forza proporzionale alla velocità e che sul punto materiale agisca anche una forza esterna, la forza risultante sarà questa. In questo caso, quindi, l'equazione fondamentale della dinamica si scrive in questo modo. In tutti questi esempi abbiamo sempre ottenuto un'equazione che contiene la derivata seconda di una funzione incognita e la lega alla funzione stessa ed eventualmente anche alla sua derivata prima. Notiamo che questo vale in generale quando si scrive l'equazione di Newton per un punto materiale. Infatti il risultante delle forze che agiscono sul punto può dipendere, anche se magari in modo più complicato di come abbiamo visto nell'esempio, solo dalla posizione y, dalla velocità y' e dal tempo, mentre non può dipendere dall'accelerazione o da ulteriori derivate della posizione. Quindi, in generale, nel caso unidimensionale, l'equazione fondamentale della dinamica assume sempre la forma m y' uguale a f di t y y'. Questa è un'equazione differenziale ordinaria, cioè un'equazione in cui l'incognita è una funzione di una variabile y che comparne l'equazione anche mediante le sue derivate. L'equazione del secondo ordine, perché la derivata di ordine più alto presente è la derivata seconda. La forma più generale possibile di questa equazione è questa. Come si può intuire, già dagli esempi precedenti, queste equazioni, o più in generale i sistemi di equazioni di questo tipo, giocano un ruolo fondamentale nella modellizzazione fisica, sia della dinamica del punto materiale che, più in generale, dei sistemi fisici con un numero finito di gradi di libertà, come ad esempio i corpi rigidi. E' importante però sottolineare che per la modellizzazione dei sistemi fisici continui, come ad esempio le vibrazioni delle membrane elastiche, la diffusione del calore in un mezzo continuo, il moto dei fluidi, si devono utilizzare equazioni differenziali in cui la funzione incognita è una funzione di più variabili reali. Queste equazioni si chiamano equazioni differenziali ordinarie, alle derivate parziali. Come abbiamo detto, in queste lezioni ci concentreremo sulle equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine, lineari, cioè quelle che si scrivono nella forma ay' più by' più cy uguale a f, dove i coefficienti a, b e c e il termine noto f, detto anche forzante, sono funzioni assegnate, definite e continue su un certo intervallo i. In particolare, rientra in questa classe l'equazione delle vibrazioni meccaniche smorzate e forzate che abbiamo scritto in precedenza per la molla. I coefficienti a, b e c delle equazioni, in questo caso, sono costanti. Le equazioni lineari del secondo ordine ai coefficienti costanti sono una classe ancora più particolare di equazioni. Per quanto molto particolari, queste equazioni sono importanti perché possono avere diversi significati fisici. Ad esempio, oltre a descrivere oscillazioni meccaniche, queste equazioni entrano anche nella descrizione dei circuiti elettrici. Consideriamo, infatti, un circuito elettrico avendo una resistenza R, un'induttanza L e un condensatore di capacità C, a cui si è applicata una forza elettromotrice E di T. Ad esempio, ma non necessariamente sinusoidale, come il regime di corrente alternata. Stiamo considerando quello che in elettrotecnica viene chiamato circuito RLC in serie. Vogliamo determinare la carica Q di T su un'armatura del condensatore e l'intensità di corrente I di T nel circuito. Queste due grandezze hanno una relazione semplice tra loro. L'intensità di corrente I di T è semplicemente la derivata rispetto al tempo della carica presente sull'armatura del condensatore. La somma delle cadute di potenziale agli estremi dei tre elementi in serie, induttanza, resistenza e condensatore, in base alle leggi dell'elettrodinamica, deve uguagliare la forza elettromotrice applicata e questo si traduce nell'equazione contenente Q, I e I' che si può riscrivere in termini della funzione Q. Derivando una volta rispetto al tempo e ricordando che tutti i coefficienti si suppongono costanti, otteniamo un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, formalmente simile all'equazione delle oscillazioni meccaniche forzate e smorzate, in termini della sola corrente I di T. Le equazioni lineari del secondo ordine giocano un ruolo fondamentale anche in molti fenomeni più complessi. Consideriamo ad esempio un punto materiale di massa m appeso ad un filo sottile di lunghezza L. Indicato con θ di T l'angolo formato al tempo T dal filo con la verticale, scomponendo la forza peso nelle componenti radiale e tangenziale rispetto alla direzione del filo e utilizzando un riferimento cartesiano con asse verticale diretto verso l'alto, la componente tangenziale della forza vale meno mg sen θ. Lo spazio percorso è S di T uguale L θ di T, perciò la velocità V di T uguale L θ' di T e l'accelerazione A di T uguale L θ' di T. Quindi l'equazione di Newton, MA uguale F diventa θ' uguale meno g su L sen θ. Questa equazione differenziale nella funzione incognita θ di T chiaramente non è lineare a causa della presenza del termine sen θ. Le equazioni non lineari presentano fenomeni fisici tipicamente molto più complessi di quelle lineari. Tuttavia, conoscere il comportamento delle equazioni lineari è fondamentale tutte le volte che si ha a che fare con il caso detto delle piccole oscillazioni. Infatti, supponiamo che il pendolo compia oscillazioni vicine al punto di equilibrio stabile θ uguale 0. Possiamo allora usare l'approssimazione sen θ uguale θ e ottenere l'equazione differenziale lineare. In questo caso, dunque, un'equazione lineare rappresenta un'approssimazione dell'equazione differenziale non lineare, più realistica ma più difficile che governa il fenomeno che ci interessa. L'equazione lineare rimarrà una buona approssimazione fin tanto che il movimento rimarrà vicino al punto di equilibrio.